La sfida è il caffè della nonna, guarda come c'è a casa, con la capsula. Io ho fatto una ricerca, sempre questo qua, era il caffè dove teneva mia nonna, vedi, origano, perché nei barattoli delle nonna, non c'era mai quello che c'era scritto. Tu dici, prendiamo il sale, assaggiamolo, perché c'era il zucchero, il sale, sai, ce l'avevamo tutti quanti. Per esempio questa qua è una macchinetta, conoscete no? Faccio vedere perché mi piace fare questo tipo di cose reali. Tu prendevi, mettevi qua, cucchiaino, prendo questo qua, ecco qua, mettevi qua, ci sta, bravissimi complimenti, mettevi qua. Mi vai a pia, mi vai a pia una cassa d'acqua, una cassa, si pia. Signora stiamo, non c'è l'acqua, c'è il fuoco. Allora l'acqua c'è, guarda fammola bene, fammola divertire, aspetta. L'acqua c'è l'acqua, l'orlo, l'orlo, si vede l'acqua, io la vedo! Metti il caffè, lo pressi, come? Mi traduco per chi non sa Roma, ha detto, c'è l'acqua sopra la barbola, se no schioppa. Allora, schioppa, lo traduco, esplode, coniughiamo il verbo schioppa. Io schioppo, tu schioppala. Metti questa qui con l'acqua che noi per comodità non abbiamo messo, sopra il fuoco che noi per comodità è pericoloso, e lo fai bollire, e usciva il caffè, versava il caffè. Ma ormai non c'è più questo. Ormai nella gran parte delle famiglie ci sono queste qua, le capsule. Conosci le capsule? Metti qua, è tutto molto bello. Metti qui il caffè, metti qua. È carino. Sai, si dicevano una volta, invitavi, viene più un caffè a casa mia? Giusto? Una donna fa, vedi prendi un caffè insieme? Oggi chiedici, avevo una cialda. Sono una cialda che tu mancano immagini. Ti ho visto, posto un problema, no? Io dico, ma sicuri che queste capsule siano così comode, siano così economiche, siano così convenienti, siano così utili? E mi sono fatto una piccola ricerca, cara, cara, bella nonna. Tra virgolette. Eccola qua, guardate. Allora, io ho fatto una ricerca. Le capsule vanno da una media di 20 centesimi a 50 centesimi, quelli di marche più prestigiose. Ci siamo? Posso? Se dubbi chiedetemi che vi spiego. Allora, questa qua. Io ho fatto un conto che vanno mediamente da 20 euro al chilo a 80 euro al chilo. 20-25, quelle meno di marca, e 80, quello di marca. Praticamente come la spicola e ara costa. non avendo risolto il problema dei capsule. Noi, che cefamo? Dopo che ha fatto il caffè, con i fondi, tu nonna ci faceva, i piante. O ci leggevi i fondi, hai visto Cartomanti? Il futuro. Come? Orecchini. Lo dico un attimo agli autori. Qui dobbiamo risolvere questo problema. O penso tutti vanno via, tutti. Perché questo programma, e questa è una caratteristica, è interattivo, la gente può parlare. Però è anche un modo di dire. E pure Sebastiano Giannoria può parlare. Ma mica parla! E pure Sebastiano Giannoria.